Sono numerosi i docenti, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici e amministrativi delle scuole siciliane di ogni ordine e grado che il prossimo anno perderanno la titolarità nella loro sede di servizio. Lo dice il segretario della FLC CGL Sicilia, Adriano Rizza, commentando i dati forniti dal Ministero dell'Istruzione sugli organici. A pesare sono, spiega Rizza, la costante perdita di studenti e la decisione del Governo di non rispettare gli accordi sottoscritti appena un anno fa come il patto per la scuola del 20 maggio 2021 e le istanze di modifica del DPR 81 del 2009 per il rafforzamento degli organici e la riduzione del numero di alunni per classe. Per l'anno scolastico prossimo, continuo, è previsto in Sicilia un calo di ben 15.055 alunni così ripartiti, 1.861 all'infanzia, 3.485 alla primaria, 3.908 nel primo grado e 5.801 nel secondo grado. Fenomeno che non può essere ricondotto al solo calo demografico, ma soprattutto ad un disagio economico e sociale che colpisce molte, troppe famiglie siciliane, in modo particolare quelle formate da giovani coppie che non riescono a trovare una condizione di lavoro stabile.